Oh 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 Calma eh Si? Come? Com'è? Vica cos'è successo? buttala, buttala che morbida adesso mi metto di qua a vedere le facce che fate parti a zero all'ora zero all'ora no voglio vedere la faccia che fanno quando girano fanno giù un'altra là no, là che c'è il sole più giusto dai dai fanno giù un'altra là dai vedi che tanto si sono dispersi andiamo, andiamo là dai andiamo, andiamo di là fanno di là il sole posteria la tenuta, la tenuta non la tenuta tra poco alto no, andiamo di là cazzo i vostri adesso ci rimedi un cazzo qua no, 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 filmali devo già star qua io appoggiato a piedi adesso per appena uno stronco ti ricordi quella roba che stava in giù di città guardala, guardala al contrario non lo fai più con il tronco qua perché ti porta via la gomma tutti i maestri tutti i maestri e tutti quelli che non imparano quello che spiega è il maestro scusami, chi cazzo è che spiega ma già si arriva su qua anche se non faccio altro non lo fai di qua ma fa saltare un paio no, non ti cazzo che trovi che spiega se non faccio la paura è troppo un po' il davanti Simo Simo oh al contrario adesso è al contrario così è già meglio va bene qua ci vogliono le traversine quelle nuove che non sono impregnate le puoi mettere ma sei troppo incazzato lascia andare dietro là 5 no, è uscito di là Luigi cinghiale stracotto o tracotto ehi ciao dagli un calcio a quello dagli un calcetto a quello lì è una piastra di spintamento andiamo di là va va